Rita, sono uno studente di ambientale di questa università. Abbiamo sentito prima dal dottor Agostini che in Italia, l'Italia è soprattutto poco attenta, forse poco attiva sul fronte della sensibilizzazione. Io volevo fare una considerazione sui consumi domestici, che probabilmente sono il modo migliore, forse il primo passo per poter entrare nelle case di ogni italiano. Ecco, pur essendo consapevole che il consumo domestico o l'efficienza domestica non è minimamente paragonabile alla produzione di energia o al consumo di una grande industria, mi chiedo se è possibile far rientrare le grandi strutturazioni o la nuova edilizia all'interno di questi meccanismi e soprattutto come, almeno per poter agire sul fronte della sensibilizzazione in Italia. Grazie. Sì, ci si sta lavorando su questi meccanismi, essenzialmente forse uno dei principi è il maticato dei certificati bianchi sull'efficienza energetica, in cui proprio questo tipo di misure vengono, si misura l'incremento di efficienza energetica e viene compensato e sono dei certificati che sono scambiabili sul mercato. Questa è un'esperienza in cui siamo pionieri, a livello proprio europeo, penso che quasi mondiale, e quindi ci si sta lavorando, sta avendo dei buoni risultati al momento perché praticamente ci sono delle aziende che poi si specializzano ad andare in giro casa per casa, piuttosto che per le piccole e medie aziende e le famose ESCO per fare interventi di questo tipo. Ha avuto qualche difficoltà, ma pian piano, insomma, purtroppo anche lì doveva partire, doveva partire, poi alla fine è partito, però il partito c'era dei problemi, però insomma dà dei segnali positivi, quindi ci si sta lavorando. Buongiorno, anche io sono studente del Politecnico, avevo due domande per voi, in particolare per il dottor Agostini. La prima, in un'altra conferenza, parlavano degli esponenti di Confindustria Italia e dicevano che l'industria italiana aveva dei problemi strutturali, cioè l'industrializzazione in Italia è arrivata successivamente rispetto a Germania e alla Francia e quindi i costi marginali di ammodernamento sono maggiori e quindi gli obiettivi non solo sono sfidanti, ma sono addirittura eccessivi oltre ogni più rosa aspettativa. Quindi volevo un parere su questo. Un'altra invece, la domanda, era legata ai costi dei crediti di emissione. Si è detto che, so capito giusto, che si dovrebbero stabilizzare nei prossimi anni, ma visto che nel 2012 scade la prima parte del protocollo di Kyoto e ci sono dei paesi che non hanno firmato e altri ancora che non si sono impegnati per il proseguimento, fra cui la Cina, se non sbaglio. Questo dovrebbe creare ancora più instabilità, maggiori problemi a livello di finanziamento e quindi anche un rischio proprio che crolli tutto il sistema. Forse io rispondo alla prima domanda e poi magari lascio spazio agli altri per la seconda, anche su questo insomma ho le mie idee, ma penso che siamo abbastanza allineati. Sulla prima è vero, l'età delle infrastrutture industriali è un elemento critico nelle politiche sui cambiamenti climatici. L'America se ne è tirata fuori nel momento in cui si è resa conto proprio che c'era un disallineamento tra i propri cicli di innovazione del capitale industriale e quello che prevedeva il protocollo di Chioto. Quindi in questo senso ci si aspetta anche che potrebbe rientrarci una volta che ci ha avuto questo allineamento. In Italia abbiamo in parte quel problema per alcuni di questi aspetti. Non da ultimo, per esempio, abbiamo riambientalizzato un sacco di centrali, abbiamo speso un sacco di soldi, questo 4-5 anni fa, quando ancora Confindustria diceva che Chioto non sarebbe mai avvenuta. Quindi adesso abbiamo fatto quegli investimenti, adesso si sono resi conto che Chioto invece ci sta e quindi c'è un problema. Quindi l'età del capitale industriale degli impianti svolge un ruolo critico nell'identificazione della politica ottimale. On the question of ratification of Chioto Protocol, there have been now several meetings in the negotiation process and Australia, for example, the Labour Party of Australia has indicated if they win the elections of 24th of November, they will ratify the Chioto Protocol even immediately, which would, of course, be a relevant shift. All sensible politicians in the US have said that they want to seriously participate in the negotiation for the post-2012 regime. So, also there, I think we are on a positive path. The only really negative development is Canada, as I, well, because they somehow clandestinely want to withdraw without formally withdrawing. So, Canada is a real problem and unfortunately the Canadian opposition didn't call a vote of non-confidence as it had said earlier if the government would re-neach on the commitments. So, the Canadian case could, of course, be also taken up by some countries in Europe who, in the end, think it's too expensive. But let's hope that this will not go as far. I, sinceramente, un po' tenderei a scendere le due cose fra la, come sarà la convenzione sui cambiamenti climatici dopo il 2012 e il mercato del carbonio. I prezzi in questo momento sono fine al 2012 perché il mercato certamente esisterà fino a quel momento. Sul post-2012 in questo momento ci sono soltanto opzioni di vento di acquisto sul mercato quindi sostanzialmente non contratti ma in qualche modo impegni a riconsiderare la cosa. Nel caso estremo in cui non dovesse esserci un post-chioto, un chioto 2, come volete chiamarlo comunque esiste il mercato dell'emission trading europeo che rimane. Quindi quello è una certezza e probabilmente il mercato del carbonio a questo punto si ridimensiona proprio nelle dimensioni fisiche probabilmente rimarranno ancora delle attività per esempio tutte le attività di mercato degli Stati Uniti, secondo me, rimangono rimarranno le attività australiane non è escluso che i mercati poi vengano collegati con piattaforme informatiche per cui io sullo sviluppo sulla continuazione del mercato del carbonio sono abbastanza tranquillo in realtà. Sulle previsioni di prezzo sinceramente non mi esprimo le opzioni che ci sono in questo momento sono a 2 dollari un dollare e mezzo chiaramente però ci sono anche iniziative abbastanza interessanti di fondi a parte quello della Banca Mondiale che comprano post-2012 appunto per dare questo segnale di continuità e cercare di mantenere il mercato vivo. L'anno prossimo probabilmente 2010 massimo le idee saranno più chiare comunque però io sono abbastanza tranquilla da questo punto di vista. Sì indipendentemente da ciò che uno pensi sia pro o contro l'energia nucleare su fattori di sicurezza e cose di questo tipo direi che è indiscutibile il fatto che fra le diverse fonti di energia è non dico l'unica ma di gran lunga la migliore riguardo all'emissione di CO2 cioè non emette CO2 tant'è che probabilmente sulla spinta di questi cambiamenti climatici eccetera attualmente più o meno tutto il mondo escludiamo l'Italia si sta muovendo in quella direzione mi sembra di aver capito qui correggetemi che nel meccanismo CDM siano compresi i progetti di full switch giusto? questo mi sembra di aver capito mentre non siano comprese finanziamenti a tecniche di fissione nucleare o simili ecco volevo cercare di capire quali sono le motivazioni per questa scelta? grazie molto semplice una scelta dogmatica cioè quando si stava negoziando insomma penso che possono confermare c'era stato un grosso dibattito i nucleari i francesi lo volevano dentro tutti gli altri lo volevano fuori però era un dibattito che a quel tempo era esclusivamente tra ambientalisti e i francesi che facevano nucleare e alla fine c'è questa cosa che dice che il nucleare è scoraggiato a tutti gli effetti non viene fatto però teoricamente è previsto quindi insomma non penso che c'è molto di più di questo l'unica quasi un appunto su come vanno le negoziazioni il testo ufficiale dice che il nucleare diciamo non è proibito ma parties cioè i firmatari del protocollo should refrain from using nuclear so a tutti gli effetti è vietato cioè non si usa e non verrà utilizzato nel CDM allo stato attuale ma è diciamo politicamente la partita diciamo non è completamente chiusa non so se Michele la traduzione di refrain è si dovrebbero trattenere quindi resistere alla tentazione Gatto professore di ecologia qui a Politecnica in Milano avrei diverse osservazioni però ne volevo dire almeno due non avete mai parlato di deforestazione e credo che questa sia una cosa afforestazione ma non deforestazione tanto per dare un'idea gli incendi in Italia quest'anno hanno provocato un'emissione di 5 milioni di tonnellate di CO2 che credo che sia circa la metà di quello che mette Milano in un anno quindi questi da quello che io so non vengono conteggiati cioè ci sono sempre dei crediti positivi ma mai crediti negativi quindi se avevate qualcosa da dire su questo l'altra osservazione è che tutto considerato qui si è sempre parlato di cifre ma se andiamo a vedere le cifre totali per esempio il mercato è 16 miliardi di euro se ci pensate in fondo sono delle cifre non indifferenti forse nei bilanci delle aziende come giustamente diceva Gostip però sono delle cifre in fondo ridicole se pensiamo che il tesoretto di Padova schioppa è di 10 miliardi di euro allora questo forse può fare capire che in fondo i costi legati alle mitigazioni dei cambiamenti climatici non sono poi così stratosferici vorrei avere un'opinione da voi come economisti on the forestry very simple your forest is part of the national inventory if your forest burns you lose part of your stock and it is accounted as emissions so if you have lots of forest fires in the Kyoto period you are in trouble se posso sui progetti di deforestazione o deforestazione evitata in questo momento sono esclusi dal CDM però c'è un dibattito molto acceso che si sta sviluppando nell'ambito della convenzione clima non è escluso che nel secondo periodo se mai dovesse esserci verranno integrati e c'è stato credo un progetto pilota fatto in Papua Nuova Guinea sul calcolo della baseline dei crediti derivanti di attività di avoiding deforestation a livello nazionale io non sono un esperto di registro però forse Marcello che ha seguito un po' queste cose a suo tempo c'è un registro sulle foreste che ci permette di avere mi sembra un elemento positivo esatto quindi in quel senso viene monitorato però non so quanto sia esaustivo e sistematico nel gestirle tutte quindi se bruciassero tutte sarebbe un problema adesso esatto quindi sulla parte dei numeri lei ha ragione uno dei momenti topici di alcune delle organizzazioni con l'Unione Europea erano del tipo loro dicevano sì vabbè voi non state facendo niente Berlusconi dicevano noi compriamo tutto i crediti abbiamo risolto ma ancora non avete comprato niente e si diceva vabbè noi li compriamo nel 2011 e dicevano e quando rimettete i soldi e dicevano intatto perché se uno guarda al numero totale in effetti rispetto a una finanziaria non è un grosso problema e quindi questa sua considerazione è reale anche se però diciamo è un problema perché comunque anche non essendo diciamo stravolgente sarebbe un esborso significativo da una parte e dall'altra essendo misure che ci mettono un po' per essere attuate anche se non costano tanto più aspettiamo più aumenta il costo e quindi in quel senso stiamo già pagando il fatto che non ci siamo attivati cinque anni fa quindi però è vero non è che diciamo rispetto a una finanziaria crea dei grossi problemi siccome sento molte volte anche dall'associazione Galileo 2001 dire che ci costerebbe invece una cifra pazzesca questo non è vero il problema con con le cifre che girano su quanto ci costa il protocollo di Chiodo è che molti prendono le multe della direttiva europea e le multivinigono per il deficit nazionale che è un esercizio sbagliato la parte più deleteria di questo tipo di atteggiamento è l'incertezza sui mercati perché se l'Italia oggi dicesse io nel 2011 compro 100 milioni di crediti allora a quel punto tutti gli sviluppatori tipo l'azienda di Marcello vanno fuori e li fanno questi progetti se noi continuiamo a dire no 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 non li facciamo con le efficienze energetiche non si capisce bene come no 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 li facciamo con le rinnovate non si capisce bene come sono dei segnali confusi il mercato non riesce a capire quanto l'Italia è seria o non seria è chiaro più passa il tempo più factor conta sul fatto che l'Italia non sarà in grado e quindi prenderanno altre discariche Stefano Consonni del Dipartimento di Energetica del Politecnico di Milano una delle critiche che viene a volte spesso sollevata al sistema e ai meccanismi che avete descritto riguarda la loro complessità è un sistema oggettivamente molto complesso e la complessità uno dei motivi di questa complessità è che è imperniato sul concetto di attribuire un valore al carbonio nel momento in cui esce dal sistema economico ovvero sia viene immesso in atmosfera e siccome il sistema economico è un sistema complesso i punti di emissione sono molteplici i processi che lo generano sono molteplici generare un sistema che controlla su questi punti di emissione è oggettivamente molto complicato un atteggiamento e un'impostazione diversa potrebbe essere quella di attribuire un prezzo al carbonio nel momento in cui entra nel sistema economico cosa che sarebbe oggettivamente molto probabilmente più semplice perché il carbonio entra nel sistema economico essenzialmente nel momento in cui il combustibile fossile viene estratto dal sottosuolo e ci sono di tre tipi carbone gas naturale e petrolio a parte alcuni meccanismi diciamo paralleli come il discorso afforestazione e deforestazione però il grosso segue questo percorso e sarebbe la contabilità sarebbe sicuramente più facile e molto più facile sarebbe il controllo allora adottare questo diverso tipo di strategia è qualcosa che piace molto poco all'industria petrolifera all'industria del carbone e così via infatti quando se ne parla ai convegni normalmente viene considerato come qualcosa di difficilmente praticabile io però vorrei il vostro parere su questo cambio radicale di atteggiamento sull'attribuzione del prezzo e sui meccanismi di controllo dai flussi di carboni inizialmente quando si parlava di chiodo si parlava di una tassa di una tassa sulla CO2 molto più facile da gestire da amministrare gli americani furono completamente contro spinsero per andare verso il trading e poi quando ci fu il trading uscirono fuori questo è un po' l'aneddoto sicuramente è più facile da gestire il livello è più difficile da determinare degli economisti il problema della tassa è che non si sa esattamente quanto deve essere alta per generare alcune emissioni però sarebbe più facile da gestire sicuramente andare più verso la fonte potrebbe essere più semplice negli Stati Uniti il sistema di trading sui SOX è fatto avvicinandosi più alla produzione dei combustibili piuttosto che all'emissione quindi ci sono dei vantaggi in termini di semplicità sicuramente ci sono dei problemi di percezione politica allo stesso tempo perché come dice lei il settore petrolifero inizia a fare ma qui facciamo tutto noi sempre tutto noi poi ne facciamo la parte dei cattivi però in termini di efficienza economica ha insomma dei vantaggi meno efficienti dal punto di vista economico ma più efficace in termini amministrativi come sistema al cercare di risalire verso la fonte sono Sebastiano Dipartimento di Chimica Sebastiano Roberto io volevo un'informazione di carattere generale questo meccanismo del mercato del carbonio che ci avete descritto molto chiaramente è abbastanza complesso mi sembra abbastanza si sta allargando si sta diffondendo e soprattutto è stato diciamo istituito mi sembra di capire per cercare di contenere le emissioni vorrei sapere quanto è incisivo o quanto è stato incisivo o quanto sarà per le proiezioni che si possono fare questo tipo di attività quindi il mercato la base economica sulle emissioni vere di CO2 che il pianeta produce grazie domanda difficile queste domande piacciono non so se sono più qualificato degli altri a rispondervi o meno che poi si ricollega a quello che diceva prima a completare il sistema sembra complesso perché sembra che ci sia una grossa volatilità ma tornando a quello che diceva il professore nell'introduzione bisogna vedere il permesso come una materia prima così come varia il prezzo del petrolio piuttosto che del gas che è estremamente può essere estremamente volatile anche il prezzo del carbonio lo può essere quindi gli industriali seppur si lamentano sono in grado di gestire queste complessità una volta che capiscono come funziona il sistema è partito da un paio di anni quindi pian piano ci stanno facendo le ci stanno facendo le ci stanno riuscendo funziona o non funziona ci sono degli studi dell'Unione Europea che esaminano fanno degli impatti e sembra che funzioni anche qui c'è un problema di stabilità perché in questo momento funziona nel senso che gli industriali stanno più attenti a quanto combustibile bruciano perché se prima pagavano un tot per il combustibile adesso pagano il tot più il prezzo del carbonio perché se non lo bruciassero si potevano vendere il permesso quindi in quel senso io sono abbastanza tranquillo che abbia un effetto nella misura in cui ci sarà fiducia che questo sistema rimanga e che ci sia una stabilità dei prezzi derivata da quegli problemi politici quindi il sistema a mio avviso sta funzionando si sta rodando però il suo successo sarà determinato da queste prospettive post 2012 che dicono questa cosa rimane quindi se tu fai un impianto a tecnologia pulita non è che tra tre anni io cambi idea e come per il patto di stabilità non c'è più quel paletto ma rimane quel paletto e quindi i costi risparmiati may I just add the impact of trading is not direct because the trading is always defined on the basis of target set by the state by the regulator so for example if now for the second period after 2012 states see that the market manages to get a really low cost emission reductions into the system they are more willing to embark on more stringent emission commitments for the post 2012 so for me the market if it shows the availability of cheap reductions it will probably increase the willingness of policy makers to embark on a more stringent reduction far path in the future per la quantificazione è possibile estimarla perché chiaramente ci sono tutta una serie oggi come oggi si riesce a stimare l'impatto della CO2 sul prezzo dell'elettricità in Italia e quindi il beneficio aggiuntivo sulle rinnovabili che non pagano la CO2 e quindi si può ipotizzare che tutta una serie di impianti sono stati fatti perché ci si aspetta che il prezzo dell'elettricità salga o scenda in funzione della CO2 quindi alcuni di questi meccanismi sono a mio avviso stimabili ci si sta lavorando sopra non è semplice perché è un insieme di vari fattori sicuramente guardando soltanto a quante mette il paese si può cercare di identificare però ecco poi non si sa quanto sia dovuto per Grazie a tutti.